Quando divampa un incendio c'è sempre una squadra coraggiosa A chi arriva prima, capo? Pronta a lanciarsi tra le fiamme Ma questa volta per il suo caposquadra il nemico non è il fuoco C'è stata un'evasione dal carcere! Ecco lui che lo ha appiccato Nel caso non l'avessi notato, non siamo dei pompieri C'è una ragazza con loro! Portami giù! La 20th Century Fox presenter Howie Long, Scott Glenn, Susie Ennis e William Forsythe Pompiere con le ali! Sei ancora vivo! Tempesta di fuoco